Questo auditorium, come tutti voi sapete, si chiama Bartolomeo Montanari, che è un bambino che purtroppo è venuto a mancare il primo anno che è stato aperto a questa scuola. Questa sera, in modo particolare, io voglio suonare un brano per lui, per tutti voi, e in particolare sono molto felice questa sera perché ho anche mio papà e mia figlia, che è da tanto tempo che non mancava. Questo brano che io vi suonerò si chiama I remember Clifford. Clifford era Clifford Brown, un trombettista di colore, bravissimo gestista, uno dei più bravi del mondo in assoluto, che purtroppo, andando a un concerto, fece un incidente. E Benny Golson, che è un grandissimo sarciofonista, gli ha scritto questa canzone, I remember Clifford, che io voglio dedicare appunto a questo ragazzo, al nostro ragazzo e a tutti voi, con tanto grazie. 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 1, 2, 3, 4. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.